ci troviamo Marina Palmense oggi in questo bellissimo hotel Hotel Palmense siamo vicini al mare è un bellissimo hotel a quattro stelle di recente costruzione e oggi gireremo niente poco di meno che in questa bellissima piscina in questa sono Fabio, cosa ti racconti? se ci saranno un video cosa ti dice? che si dice? ho passato per la Germana per fare un video E non è vero che il video è l'esercito, abbiamo visto che il video è il nostro best friends forever Non gli siamo fatta la doccia. Michel e gli orecchini erano waterproof? No. Special guest Pinky. Dai che il trucco è waterstuff. Io vado l'uva. Vabbè, stai dire. Dio ragazzi, allora com'è stato buttarsi in piscina? Bellissimo. Entusiasmante, precisamente. Non l'hai fatta. Freddo? No. Sa caldo. La nostra cena. Ci rifocilliamo e sistemiamo il trucco. Abbiamo una new entry stasera. Elisa. Ciao. 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 Il primo giorno di ripresa è finito. Siamo con il tema al completo. Ci vediamo sabato per il secondo giorno. Ciao. Ciao. Giorno 2, direzione San Benedetto, del Tronto. Ci sono qualcosa come 32 gradi, noi ci siamo letteralmente scegliendo. E' nulla, secondo giorno di riprese, oggi faremo un po' di riprese al mare, un po' di riprese insomma in centro, un po' che vedete tutto nel backstage e siamo da Pornucau. Ciao. Siamo appena arrivati a San Benedetto, adesso iniziamo il trucco con le modelle, poi più tardi faremo, cioè, parà, le riprese. Iniziamo. Ciao. 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 Ci siamo spassati al mare, stiamo andando nella zona nuova, in San Benedetto. Questa è una zona appena realizzata. Ciao. Ciao. Questo lo fanno in un next stage. Siamo arrivati al mare. In un frattempo abbiamo chiesto al ristorante qui dietro a noi se potevamo fare qualche ripresa perché abbiamo visto che era bellissimo e quindi abbiamo visto se potevamo fare qualche ripresa lì. Assolutamente tutto improvvisato, non era in scaletta. Il nostro Fabio tutto fare, adesso si accingerà a pulire il pattino. Alla prossima! No, 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 no! Scusa! Alla prossima! 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 Firmati un attimo qua, prendo la misura e fermati un po' avanti… Ancora un po' avanti, basta! Io l'ho misto! Giorno 2 finito, siamo un po' stanchi, estremati ma è tutto ok, andate a vedere il video vitale sul mio canale PN Makeup e fateci sapere cosa ne pensate, ciao! Grazie a tutti!